e sì oggi vi parlo di lei della fiat panda prima recensione di questo canale sono prove queste quindi non badate troppo alla qualità video si muoverà il video non lo so però prima recensione e come prima recensione non potevo non portarvi un auto accessibile a tutti questa fiat panda mega premessa questa non è la mia auto questa è un'auto in sostituzione che ho avuto perché la mia auto principale una renault clio quindi io sono abituato a guidare una berlina ma ho iniziato su una fiat non ce l'ho per il momento quindi mi hanno dato questa e allora ho detto quale migliore occasione per testare un'auto e recensirla che sia un'auto per tutti perché poi alla fine questa fiat panda è un'auto per tutti e il taglio che voglio dare a questa recensione è proprio questo cioè cosa vuol dire portare quest'auto cosa vuol dire portarla nella vita quotidiana quindi non numeri non non caratteristiche specifiche ma esperienza di guida diretta perché poi alla fine quello che interessa oltre al prezzo parliamoci chiaro è come guidare un'auto cioè poi nella vita di tutti i giorni è un'auto che si può portare al di là dei suoi numeri e vi anticipo già la risposta assolutamente sì e in quest'auto ho trovato una sorta di fiat feeling come vi dicevo io sono abituato a guidare renault una berlina peraltro una berlina full hybrid questa è una mild hybrid un un ibrido molto farlocco secondo me ma ci arriviamo dopo io sono abituato a guidare un'auto con cambio automatico qui dopo più di due anni ho ritrovato la frizione e non è andata male per niente male e vi dico fiat feeling perché la mia prima auto quella con cui imparato a guidare era una fiat 600 datata 1999 ma andiamo con ordine ne parliamo poi meglio dentro anche perché il tempo non è dei migliori ma come si presenta quest'auto allora l'esterno è ultra riconoscibile la vedete vede subito è una fiat parliamo di uno stile che ormai si porta dietro da parecchi anni è uno stile comunque assolutamente riconoscibile e stra funzionale nulla di troppo particolare ovviamente qua in led è solamente una una fantasia tutto molto sul classico tutto molto incentrato al risparmio ma non per questo meno funzionale a una cosa che ho dimenticato di dirvi questa è la versione mild hybrid ma assolutamente base è un'auto assolutamente base qui niente di troppo interessante da dire se non che a me questo logo piace un sacco specchietti che plastica più plastica non si può niente led dai lati niente sensore dell'angolo cieco come ho detto è un'auto base 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 il taglio laterale è quello fiat fiat pad che ormai abbiamo imparato a conoscere molto bene a me questo logo lo ripeto continua a piacere ma proprio l'accostamento dei colori questo rosso all'interno mi piace uno dei migliori loghi fiat che ci siano qui vedete il beige hybrid che comunque è un ibrido farlo per me è un ibrido che non è ibrido qui sotto terminale di scarico a vista ed era un po che non ne vedevo io ho visto una cosa che non vedevo appunto dalla vecchia 600 su cui ho imparato a guidare la serratura per la chiave ovviamente è un qualcosa che non è fondamentale nel senso che fortunatamente c'è il telecomando con l'apertura centralizzata da telecomando dal telecomando possiamo anche aprire il bagagliaio e cliccando qui ecco che spunta fuori la chiave che comunque non ho mai utilizzato se non appunto per avviare la vettura la vettura si accende così vedete ci saluta e andiamo dentro per fare due chiacchiere in più allora eccoci all'interno perdonate l'inquadratura un po di fortuna allora parliamo qui un po più al caldulcio di parliamo meglio di quest'auto contestualizziamola allora è un'auto cittadina un'auto che è assolutamente alla portata di tutti anche come prezzo questa versione su cui sono in questo momento mi pare costi addirittura meno di 10.000 euro poi con i soliti sconti rottamazioni eccetera eccetera comunque la prendete sotto i 10.000 euro ed è un'auto che io definisco essenziale e ideale per la città perché allora come dicevo prima io vengo da una guida che è molto diversa rispetto a questa ho imparato guidare sì su un'auto con frizione è una cosa che straconsiglia a tutti imparate a guidare su un'auto con frizione perché vi aiuta assolutamente però poi ho guidato tipologie di auto parecchio diverse da questa la mia auto appunto ordinaria è una berlina ora questa fiat panda secondo me si rivolge un target ben specifico anzi a due tipologie di target ben specifici ma al contempo molto ampi si rivolge ai mio patentati perché questa è l'auto tipica con cui imparare a guidare su questo punto vorrei dire qualcosa per esempio sulle dotazioni di sicurezza perché su questo fiat secondo me ha risparmiato e non poco e non è una cosa che va proprio bene visto proprio questo target e a tutti colori quali abbiano necessità di un'auto da utilizzare in città e si possa utilizzare tutti i giorni che non consumi molto perché questa fiat panda non consuma quasi niente e che magari non hanno un budget altissimo la versione base che infatti sto guidando in questo momento è un'auto che comunque tutti i giorni la si può portare è un'auto che non ti fa stare al freddo poco ma sicuro è un'auto che comunque rispetta tutti quei dettami tipici di un'auto moderna tutti quei bisogni che una famiglia può avere come si guida dunque quest'auto prima vi ho detto del fiat feeling e mi riferivo in particolare alla frizione che è una cosa che mi ha parecchio sorpreso io non mi aspettavo infatti di ritrovare in quest'auto dopo parecchio tempo la stessa abilità normalità di guidarla quando mi hanno detto ti diamo un'auto con frizione ho un po' sorto il naso perché ho detto oh mio dio non la porto da tanto non ne guido una da tanto tempo chissà cosa accadrà invece no ho notato che nell'arco di più di 20 anni sostanzialmente la frizione fiat è rimasta sostanzialmente identica livello di staccata lo stesso semplicità per me quantomeno di utilizzo la medesima ed è una frizione che perdona perdona magari quelle piccole incertezze perdona magari degli stacchi troppo veloci come solitamente faccio io è una frizione che si lascia ben guidare e che appunto io vedo molto indicata per un neopatentato o neopatentata indicasi per gli altri pedali il freno risponde abbastanza bene l'acceleratore anche e l'acceleratore ha una particolarità e qui entriamo nel discorso mild hybrid questa versione la fiat pan ma la maggior parte dei modelli prodotti è una versione mild hybrid che cosa vuol dire vuol dire che c'è una batteria un'altra batteria che alimenta una una sorta proprio la semplifica l'ennesima potenza di motorino elettrico questo motorino elettrico da 12 volt davvero pochissima roba aiuta nelle fasi di ripartenza ma proveniendo io da un'auto full hybrid ne sono stato molto contento perché perché la frenata rigenerativa che va a ricaricare mediante cinghia la batteria da 12 volt è una frenata ottimale soprattutto in città soprattutto quando bisogna andare su strade che sono le strade tipiche che faccio io su strade statali dove magari spesse volte non hai bisogno di schiacciare il freno ma basta rilasciare l'acceleratore e l'auto veleggia ora in un'auto normale facendo questa cosa l'auto non ha una vera e propria frenata ha il freno motore ma è una sensazione molto diversa con questo sistema la frenata la sensazione di freno motore è molto più alta è per me che vengo da un'auto che guido quasi quasi totalmente a un pedale e sta ad una bella scoperta poi il sistema a 12 volt effettivamente aiuta nei consumi aiuta nelle ripartenze devo dire che si fa sentire nelle ripartenze molto meno credo nei consumi perché comunque parliamo di un sistema a 12 volt l'auto praticamente cammina sempre col termico poi c'è questo motore che la assiste sterzo leggerissimo è un'auto davvero molto agile lo sterzo di una leggerezza allucinante addirittura l'ho sentito più leggero rispetto alla renault clio da cui provengo ma è normale non perché il sistema sterzo della clio sia più pesante o sia peggiore ma perché comunque qui parliamo di un'auto che ha una massa a vuoto inferiore ad una tonnellata quindi parliamo di un veicolo molto leggero di un veicolo anche abbastanza alto e lo sterzo di una leggerezza disarmante altra cosa fantastica che ho trovato su quest'auto intanto perdonate la luce ma purtroppo non avevo altro in questo momento altra cosa che ho trovato molto interessante è stato è stata la posizione di guida in quest'auto mi sono trovato incredibilmente e maledettamente comodo è una cosa che anche su auto più blasonate non ho trovato scontata su questa fiat credo di aver trovato forse per la prima volta la mia posizione di guida ideale e sia ben chiaro è il sedile si può regolare solamente in escursione avanti invierro e lo schienale lo sterzo si può regolare solamente in altezza non ci sono molte regolazioni ma la posizione di guida che ho trovato è comodissima merito anche dei sedili che sono dei sedili ecco anche qui non troppo ma nella loro semplicità funzionali stessa cosa anche per l'altezza di guida ho trovato un'altezza di guida abbastanza alta e soprattutto con delle vetrate molto ampie cioè credetemi il parabrezza soprattutto se venite da auto di diverso tipo è enorme sia davanti che il 1.8 dietro ma anche di specchietti li ho trovati molto ampi e questo compensa l'assenza di adas assistenza assistenza alla guida assistenza di parcheggio è una scelta che forse è stata necessaria sì ma meno male perché comunque guidare così alti perché alla fine si guida abbastanza alti su quest'auto e avere una superficie vedrata così ampia consente davvero una guida che è molto sicura e soprattutto molto piacevole in una parola piacevole altro assoluto vantaggio di quest'auto è certamente il clima l'ho trovato addirittura più efficace di molte auto persino della mia a livello di calore quantomeno non ho avuto modo di provarlo con l'aria fredda funziona da dio cioè io qui uscendo con 10 gradi in esterno lo accendo 10 minuti alla seconda velocità e a intensità medio bassa di calore l'auto è calda di clima fantastico che altro dire vi faccio vedere un po l'interno dell'auto accendo magari la luce sarà gialla ma meglio che non vedere nulla e vi dico altre due cosette allora come vi dicevo posizione di guida ideale cosa avremo davanti i nostri occhi esattamente come lo state vedendo qui abbiamo le bocchette dell'aria in posizione verticale non le avevo mai viste così ma sono certamente una buona trovata ovviamente qui vabbè qui plastica però con un qui non si vede è una texture particolare con scritto panda che è molto carina qui abbiamo un po di velluto velluto morbido certamente ma è qui plastica 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 che è fatta per durare evidentemente come vi dicevo degli specchietti molto ampi e poi il volante vi dicevo volante leggero comodo funzionale bello andiamo dunque ad accendere il quadro strumenti e quello che ci troviamo davanti è uno è una cosa un po anacronistica ed è dove credo che fiat abbia risparmiato di più davanti infatti ci troviamo due quadranti assolutamente analogici come potete vedere qui abbiamo la velocità con vari indicatori qui al centro con piedarino di bordo centrale e poi altro quadrante assolutamente analogico con i giri motore il con piedarino centrale è secondo me un esempio di genialità italiana poiché in un pochissimo spazio riducendo al massimo i costi perché questo è un display alla fine monocolore ci sono un bel po di informazioni chilometri totali qui c'è il livello di carburante e qui diverse informazioni che sono settabili dalla plancia di comando qui al centro ovviamente qui i due comandi laterali per luci tergi cristalli eccetera eccetera e poi parte centrale anche qui un'altra generata fiat il cambio il pomello del cambio qui centrale è comodo assolutamente sì se non l'avete mai utilizzato bisogna un po farci l'abitudine ma è assolutamente comodo qui ovviamente non c'è nulla comodo il cambio peraltro ha delle cambiate abbastanza brevi nel senso che praticamente la prima si utilizza solamente per partire in salita si può benissimo partire anche in seconda io l'ho fatto e lo faccio diverse volte perché proprio la prima va molto stretta cioè serve praticamente solamente quando si parte proprio da fermi 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 e se si è in salita per il resto seconda tutta la vita e le marce seconda terza quarta vanno via una dietro l'altra praticamente la seconda la inserite per qualche secondo in genere si viaggia in marcia quasi sempre in quarta anche la terza va via abbastanza subito si viaggia quasi sempre in quarta nella sesta è assolutamente una marcia di riposo totale per il motore è una cosa che ho notato perché dal computerio di bordo lo segnala è che lei chiede quasi sempre marce alte cioè anche quando non mettereste per esempio la quinta lei lì ve lo chiede vi chiede proprio con un'indicazione shift verso l'alto di cambiare e di aumentare marcia è una cosa che non credo lo faccia per meccanica per sistema però talvolta questa indicazione è stata errata perché quando poi per esempio dalla quarta passata alla quinta e non l'avreste fatto di vostro mi è capito spesse volte che il motore andasse giù di giri perché proprio si vedeva che faticava a risalire di giri quindi secondo me qui c'è qualcosina da sistemare e questo invece la parte in multimedia quello che qui è una semplice radio un auto radio sostanzialmente con schermo monocolore qui è possibile selezionare il presente di stazione radio è possibile cambiare la radio c'è la radio dub il che è veramente interessante ed ottimo e qui diversi comandi multimedia nulla di che è possibile collegare lo smartphone o una chiavetta qsd con gli mp3 cosa un po anacronistica ma c'è una qualcosa di davvero molto 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 base e questo però mi è piaciuto questo il comando il comando centrale che come vedete è un è un pad che si muove nelle quattro direzioni veramente ottimo e ho lasciato volutamente delle cose qui per farvi vedere gli spazi che ci sono qui troviamo una presa da 12 volt come vedrete 12 volte poi qui tanti altri vani e vanetti portabibili dietro e questo invece è il sedile che vi faccio vedere vedere un sedile come vi ho detto semplice perché è semplice ma comunque che ha il suo perché è funzionale e morbido e comodo passiamo dietro e dirlo come si sta dirlo si sta comodi come dicevo quest'auto è ottimizzata all'ennesima potenza infatti nonostante le dimensioni io qui io sono alto 1,60 sedile sulla mia altezza ci sto maledettamente bene guarda c'è più quasi una spanna dal tetto le mie gambe sono in posizione perfetta certo non aspettiamoci chissà quale comfort qui c'è la manovella i posti in teoria sono cinque ma il quinto è praticamente molto sacrificato solamente per casi di assoluta emergenza ultimo guardiamo il bagagliaio bagagliaio che come vi dicevo si può comprire o dal telecomando o dalla tipica maniglia sul portellone un bagagliaio che è semplicemente funzionale allora che poi l'aggettivo funzionale un po il light motif di tutta di tutta l'auto allora è un bagagliaio essenziale nel senso che i sedili non sono ricoperti ma è un bagagliaio utile gestito bene qui nel mio caso anche le catene da neve visto il territorio lampara rigorosamente alogena un gancetto qui in plastica per appendere buste ed è un bagagliaio che è buono è ottimo come vedere ci stanno tranquillamente due bustone della spesa e qualcosina in più dietro c'è anche il kit di segnalazione e qui giù qui sotto bella nascosta c'è la ruota di scorta che è una cosa che non è scontata in auto soprattutto di questo tipo una cosa che mi ha sorpreso che non avevo mai visto ecco è questo allora per chiudere il bagagliaio ci hanno messo un laccetto io questa cosa non l'avevo mai vista prima ve lo giuro per carità hanno messo della moquette qui che ci sta però il laccetto queste cadute di stile fiat è funzionale utile ma magari fare un incavo qui forse sarebbe riuscito più comodo ma anche questo sono gusti sono minuzie e questa era la fiat panda base è un'auto per tutti un'auto che sostanzialmente può guidare il neopatentato e il padre la madre di famiglia per portare i figli a scuola è un'auto che vale il prezzo che ha è che come tanti anni fa ricopre ancora il ruolo di motorizzatrice è l'auto che motorizza gli italiani e i cittadini in generale che motorizza le persone perché un'auto che davvero si è adatta tutto è versatile io non ci farei i viaggioni ma quest'auto può fare certamente viaggi anche lunghi ed è assolutamente versatile un'auto che mi ha fatto riscoprire un po il piacere della frizione anche se continuo a preferire per me sono radicalmente superiore i cambi automatici ci farò un video proprio a tal proposito anche con un confronto tra un po di auto auto promossa assolutamente sì questo per oggi era tutto grazie per aver guardato mi scuso per la qualità di questa video recensione è la mia prima video recensione quindi non che cosa scusi la bassa qualità del video però credetemi farlo è stata veramente un calvario like al video se vi è piaciuto iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video e per seguirmi in questa mia avventura fatemi sapere cosa ne pensate di quest'auto qui sotto nei commenti e di questa video recensione al netto della vita video io vi saluto e ci vediamo al prossimo video grazie per aver guardato ciao